Anche il 2023 è un anno in cui non accenna a placarsi il fenomeno della violenza sulle donne. I dati sono stati forniti dal Centro Antiviolenza Luna che è attivo sulla piana di Lucca, esposte dall'operatrice psicologica Giulia Panconi. In questo anno abbiamo avuto 385 contatti e svolto quindi 1.6 ore di supporto psicologico per le donne che intendono uscire da una situazione di violenza. Sono 100 le ore svolte per la consulenza legale. Il 44% delle donne ha denunciato la violenza, mentre il 53% ha scelto di non farlo. Il dato più allarmante e rilevato è l'età delle donne che si sono rivolte al centro. Più della metà delle donne che si sono rivolte al centro sono in una fascia d'età compresa tra i 18 e i 39 anni. Questo ci spinge a muoverci ancora di più su quelle che sono le nostre attività di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole. Infatti nel 2023 abbiamo fatto interventi in più di 40 classi della piana di Lucca. Le richieste di ingresso sono state 118 provenienti dalla Toscana e da tutto il territorio nazionale. Di questi sono state prese in carico 36 donne con 35 minori.